La promessa anticipazioni. Manuel non riconosce più la donna che ama. Jana, la ragazza che fino a ieri sembrava così innamorata, adesso lo respinge senza pietà. Che cos'è successo? Qual è la verità che le impedisce di andare avanti? C'è forse un segreto nascosto dietro la promessa che lo lega a lei? Mentre Manuel cerca disperatamente una risposta, Jana si sfoga con Abel, decisa a rompere ogni legame. Manuel non ne può più. È stanco di essere il burattino della madre. Stanco di una vita che sembra non appartenergli. Cosa farà? Riuscirà a trovare la forza di ribellarsi? E mentre Manuel affronta la sua crisi, dietro le spalle di Catalina si trama qualcosa di ancora più oscuro. Pelaio, convinto di avere un piano perfetto, sta concludendo un pericoloso accordo con Geronimo. Ma riuscirà a tenerlo nascosto abbastanza a lungo? O la verità esploderà, portando con sé conseguenze devastanti? La promessa lega tutti in un intricato gioco di potere e tradimenti. E un misterioso mago arriva al palazzo con una promessa di spettacolo. Ma cosa sta realmente pianificando? La tensione cresce quando un prezioso orologio scompare. Romulo lancia un'indagine, ma le accuse volano e nessuno è più al sicuro. Petra si difende con le unghie e con i denti. Ma sarà davvero innocente? O dietro la sua reazione c'è qualcosa di più? Le ombre si allungano sulla promessa e il mistero si fa sempre più fitto. Vuoi saperne di più su ciò che accadrà? Scrivi sì nei commenti se vuoi scoprire altri dettagli e i segreti che nessuno ancora conosce. Nel frattempo i marchesi cercano disperatamente di impedire a Leonor di lasciare il paese, ma lei ha già chiesto aiuto ai suoi cugini, con cui i rapporti sono sempre più tesi. E che dire di Maria Fernandez? La sua guerra personale contro Vera non sembra fermarsi. E anche gli altri membri della servitù iniziano a chiedersi se non stia perdendo il controllo. La promessa di un futuro migliore sembra allontanarsi sempre di più per tutti loro. E poi, un colpo di scena. Qualcuno scopre un dettaglio scioccante riguardo il mago e il suo legame con Pelaio? Cosa nascondono davvero? Resta con noi e non perderti il prossimo capitolo di questa storia avvincente. Cosa succederà alla promessa? I segreti sono tanti e uno a uno stanno per venire a galla. Se non vuoi perderti nessuno dei prossimi contenuti scrivi sì nei commenti e presto uscirà un nuovo video.